Ah, scusate, non si vede il gioco, perdonatemi, 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 grazie amore mio Scusate chat, scusatemi, scusatemi, è che non vi leggo Oh, ho capito Eh, quello non è male, lo sai? Quello non è proprio male, male, ma mai Ti dico la verità Io una domanda che mi faccio è Tu davvero mi vuoi giocare Galactus? È un po' folle Tu davvero mi vuoi giocare Galactus? Davvero davvero Eccoci qua Ma tu pensi che io cago Cago coriandoli? Comunque 50 e 50 Giustamente, verso Eh, mo? E mo snap Snap? Eh già Tu mi fai snap? Eh Così mi prendo un cubo Eh, mi cazzo te lo dà Non so se si può scrivere È arrivata la carita Sto arrivando Ti è piaciuto il mio turno 5? Eh? Ti è piaciuto il mio turno 5? Sì, sì, va bene a me il tuo turno 5 Va benissimo Ti è piaciuto il mio turno 5? Sennò dove avremo anche lo stesso turno 6? Anche secondo me Ahia 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 Ahana Vi amo cin Chiamava la prossima A ver you A ver you Che succede? Ah Puttana la miseria Bar with no name Merda Ti posso dire merda Quella è un dito in culo per tutte e due Non so tu che ne pensi Non è la cosa migliore Che volevo vedere Puttana la miseria Questa è totale Questa è buona Questa è totale Vaffanculo hai pescato pure tu Quella merda di coso di Jeff Santo Dio No ce l'avevo già in mano Eh certo pure Diciamo che Ipoteticamente Galactus su sta partita Si tira solo centrale Questa è una cosa praticamente C'è questo più certo di questo Non si può fare E mi sa che non si tira ancora E mi sa che non si tira neanche più al centro Ma non è detto che non si tiri Galactus What aaaah Eeeh Oh Perché non hai vinto la location caro Tadillo Ma sapete che non la sapevo sta roba? Eh si non l'hai vinta Ed eccoci qua Ed ecco fatto Eh Eh Sei un po' stronzo posso dirlo? Ma giusto l'andecchio Sei Proprio un pezzo di merda Viper non me l'aspettavo nel tuo deck Lo sai? Ah no? No È golosa È la Come si chiama? L'underdog Non me l'aspettavo Io qua Non ti dovrei chiamare Qua non ti dovrei chiamare mai Ma perché ho voglia? È perché c'hai delle belle cazzo di combo Che ti salvano sempre il cazzo di culo ogni volta Viper ti giro su dio Bar senza nome Viper è stata una mossa straordinaria Cioè Hai fatto una figura di merda Hai fatto una figura di merda con Galactus E poi ti sei recuperato con Viper Puoi dire tranquillamente Guardate che l'ho fatto apposta Cioè Pazzesco Allora Io qua Se tu ce l'hai Perdo sempre Niente La Cioè Tu mi gioiavi Alliot a destra Era sempre vinto Cioè Io non c'avevo prima Che figura di merda V'ho fatto un Galactus Cioè Cioè Ma no Puoi dire che l'hai fatto apposta Lascia perdere Ma io No ma tu Io volevo fare comunque Viper Però sai cosa volevo fare Io volevo giocare Galactus Si attivava E certo E certo E certo E poi buttavi Viper E io stavo una merda Sì sì Avevo capito Come no Certo E che no Ho capito Ho capito sì E vabbè Se proprio tutte le carte Devono essere giocate qua Wakanda forever Lo facciamo così Ah È il Bifrost Ok 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 Pura È già È già Su il mouse Oh fuck è manco male manco male è il pazzo faccio ma sai perchè ho fatto questa? dove intorno ti ho giocato? ho giocato che tu spostavi Jeff sinistra ok e ho giocato che tu mi diravi Jeff sinistra e mi diravi viper a destra e quindi mi ridavi indietro il goblin il problema è qua ti ha detto un buco di curo immeritato perchè la prio doveva darmela a me il gioco invece l'ha data a te eh ero un 55 ho vinto un 55 eh veramente si vabbè però anche un po' meno sfiga insomma ecco eh è qua è qua vinceva chi aveva prio eh anche un po' ma ce l'avevo forse non avevo aliot però ti ho vetato ma eh si ma tanto che cazzo me ne frega io ti tiro aliot tu implodi qualsiasi cosa cioè comunque chi ha aliot vince lo sai perfettamente anche tu eh ma se non avevo aliot te l'ho bleffato eh che c'entra a prescindere ma non ti posso ma io non posso cioè allora io tu non puoi bleffarmi un aliot cioè eri troppo in vantaggio a prescindere ce l'avevi o non ce l'avevi comunque in mano ce l'avevi cioè hai capito come ok ho capito cioè a prescindere ce l'avevi per forza in mano cioè a prescindere eri troppo forte la cosa della prio era troppo forte ci sta no ma là non chiamavi mai ma non potevo ma neanche a calcino il culo avrei mai chiamato una roba del genere no ad esempio questa partita se posso dire mi sembra brutta 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 non solo a te Questo match qua è veramente Orribile se posso dire Ora Che brutto Che brutto Che brutto Madonna Oh Doin' that Sunspot è stato carino eh Eh si no È goloso Perché Vai ad approfittare Del fatto che Il turno dopo Flotti due mana Sto turno È giocato Sunspot comunque È un 5 Cioè È goloso Assai Eh purtroppo Bricca Galactus è così O va Vada I match up di Galactus Sono qualcosa di Di atroce Merda quel campo di sinistra Santo Dio Santo Dio bro Quel campo di sinistra Eh però vabbè Tu Tu c'hai Come Rompermi il cazzo Su quel campo di sinistra Vedi per esempio Questa non l'ho capita Da parte tua Perché hai tirato Daredevil Su vasche di clonazione No seriamente Ma mica perché Te voglio romper Il cazzo Perché Non è assolutamente Una roba che Perché Non volevo andare Alla cieca A destra Ok E quindi ho detto Mi gioco su vasche di clonazione E c'ho un possibile campo Per un Galactus E poi Daredevil Nel nostro match up È troppo forte Cioè Se tu non mi giochi Daredevil Vederti il turno 5 Per me Mi serve come il pane Dio santissimo E poi Un'altra elettro in the wood. 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 No, ma io avrei pure pensato di farlo Galactus là, ma non ce l'avevo. Oh, santo Dio. Madonna. Un po' di rocce. Un'altra elettro in the wood. Grazie. Oh, sai, non mi ricordo che cazzo di carta è quella lì tua in alto a sinistra. Quella a sinistra? È quella che toglie tutti gli effetti dalle carte nel turno 6, giusto se non erro? No, quello è il lì, c'è il leader e copia nel tuo lato le carte con più forza giocate nel turno avversario durante questo turno. Ho capito, ho capito, ho capito. Sto dando un grande aiuto, eh? No, ma non me lo ricordo, ti giuro, non me lo ricordo, ti giuro, non me lo ricordo, eh. Ah, ovviamente, cioè. Però hai fatto una tante giocata. Ma no, ma io già volevo fare quella, ti dico la verità. No, no, perché... Qua so pifferi, come disse il saggio. È mica tanto, lo sai che so cazzi, pure per me. Oh, una volta che mi serviva, eh, gli ho tenci all'oma, ci credi? Io... Qua non ho idea come... Io non ho il coraggio di chiamarti. Se è qui... Se è galactus, finci sempre, però... Così perdo sempre. Ah. Ai ai ai. 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 No, ti tiro un bello goblin centrale, così me lo riprendo. Una volta l'ho fatto, lo sai. Lo sai che una volta l'ho fatto, lo giuro, una volta l'ho fatto. Eh, ci sta. Eh, qua... Qua, dovresti sincero, non ho avuto le palle. C'avevo una mezza giocata, ma... Cioè, perdone, tu hai giocato centro o a sinistra? Centro. Ok. Centro perché... Tu l'unica cosa che mi potevi sconfiggere, l'unica cosa, è gli otto centrale. No, in realtà potevo sconfiggerti, c'avevo Jeff. Eh? E quindi? Giocavo Jeff a destra, Nebula non prendeva il buff, vincevo destra e sinistra. Però... Era un po' troppo gridi da fare, come cosa. Sì, ho capito quello che dici. Senti, ma vogliamo parlare di questi Squirtle che sono appena apparsi in lane o...? Ma è qualcosa che rendono frizzante il game, diciamo. Che ti rompono il cazzo e basta, perché... Come sempre, nella vita. Uff. Il laboratorio. L'altro. No. 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 ho capito Opla Un piccolo cambio Prendete il mio va Però non è male Non è male no Perché io sono bello Bello ingasellato lì Bello giacione Fè Tu sei professore Però tu giochi pure Tu non giochi Shang-Chi? Chiedo Sì Gioco Shang-Chi Sì Gioco Shang-Chi Sì Ah Ed è un problema Tipo Poco poco Mi sfondi A destra Potrei giù C'è pure il professore C'è Porca puttana Shang-Chi Ah no Professore Ok E qua Si fa vedere Come si dice Lo spicciolo Qua mi fotti In tanti modi Mi fotti In tanti modi Potrebbe essere Anche non vantaggioso Per te chiamarmi Potresti anche Andartela Potrei Avere Jeff Potrei Fa tante cose belle Carine Potrei o perfetto mi chiamo aspettato fino all'ultimo speravo che tre andassi tu e alla fine è concesso però potevo aspettate se collavo era gg per play no ma perché sei guittato pure due tsi è pari cioè avevo jeff però tu se avevi jeff e trovo gioia a destra mi fottivi a sinistra aveva un poco di tappo però lo sai che avresti vinto tu perché io tiravo no io ti pareggiavo il campo di sinistra ti vincevo il campo di destra ma a differenza redi vincevi tu è vero in mezzo vincevi tu io ho pensato a jeff e tipo no chancì lo so lo so lo so lo so diciamo che se posso dire la mia merda è la mia mi sembra c'è come ti posso dire penso di essere stato abbastanza maturo nel nel prendere questa decisione secondo me a voi merda bro c'è il campo centrale è qualcosa di apocalittico c'è non so se tu te ne stai rendendo conto che il campo centrale è apocalittico in questo momento ok merda 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 ti dico solo merda eccoci qua qua sono un po indeciso ora questo qui è il turno tre tu hai quattro se non erro scusami è giusto però però giusto fermo un attimo tu mi fai lo snap tu mi fai lo snap giustamente perché tu tanto c'hai prio e stai vincendo su entrambi i campi ed è giusto ed è giustissimo vabbè qua mi ha fatto una lettura incredibile io dico mo mi gioco un goblin in mezzo e so cazzi grazie 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 a tutti. No, va, va. E' la mia volta che sono io a vedere dove giochi. E' la mia volta. 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 Non ho capito perché non si è attivato. Eh, non si è attivato perché Galactus non l'ho giocata. Capito? E' scesa dalla mano. Cioè Aliot distrugge le carte avversari giocate nel suo campo durante questo turno. Si. Capito? Ti posso dire un po' di sfiga? Un po' di sfiga. Ci sta. Ci sta. E'... Però... E' tu. Tu perdi solo se ho Aliot. Ti posso dire che non ho Aliot. Te lo dico con estima onestà. E se ti gioco Aliot mi puoi insultare. No, no. Chi dice niente? Non posso provare a fare una roba carina però. Non è detta. Se no ce la giochiamo alla prossima. Galactus. Merda. Mi è andata a culo. Mi è andata a culo. Dovevo passare. No, se passavi... Facevi tre, sei... E io pingevo di un punto. E' uguale. Era quello che giocavo giocavo. In realtà solo se avevi un goblin mi fotte. Oddio col goblin... No, in realtà come col goblin. Ok. Ah, io mi ero... Ah, tu no goblin l'avevi giocato. Però io una carta tua non la so. Perché se mi giocavi goblin... No, perdevo lo stesso. No, io perdevo... Io... Io perdevo uguale sempre di un punto. Io perdevo sempre. Sì. Sì. Mi è andata di culo perché non so contare. Lasciamo stare. Mi è andata veramente di culo. Mi sento molto scammato dal gioco. Mi ha proprio scammato in maniera veramente poterosa. A te che ti è sceso il Galactus e ti ha fatto attivare tutto. Mi sento veramente... Scammato un bot. Però ho visto che sono stato onesto che ti ho detto che non era Aliot. No, no, per carità. No, no, per carità. Ok. Ok. E' il super flusso. E' il super flusso. Ok. 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 Tu mi vedi? Eh già. Ok. Ok. Adesso le leggere ci ho fatto. Che dove fa questo? Me lo vedi? Te lo butto in faccia. Però è veramente l'unica giocata decente che ho. Mi devi recuperare un po', però... 8. Non potevo fare altro, te. Agge perso. Ti devo ci... Devo essere completamente sincero con te. C'ho Alio. Sì, sì, no, ma ho perso, ho perso, ho perso. No, vai, vai. No, vai, vai. Io sono dindole così, cioè... Ma no, ma è così, è così. Ma mi dispiace. No, no, ma... Mi sento scammatissimo dal turno che è successo prima. È immeritato proprio. E io mi dico una cosa. Sono d'accordo. Il turno di prima è stato immeritatissimo, raga. Cioè è proprio una roba... No, no, ma tu calcola una cosa. Noi avevamo già stabilito... Te lo dico, insomma, il terzo requisito. Sì, sì. Ti ha tirato una marana... Per noi la partita era finita. Incredibile. Quello che ho visto è assurdo.